Se non sei vivere un'umiliazione, tu non sei umile. E' la regola d'oro ricordata questa mattina da Papa Francesco nell'Omelia della Messa celebrata a Casa Santa Marta. L'umiltà non è andare a testa bassa, quella preta porter che non salva. La strada, secondo il Pontefice, è quella di portare le umiliazioni come il re Davide che aveva grossi peccati ma che si è lasciato trasformare dal Signore. L'azione pastorale di tutta la Chiesa per il recupero, la salvaguardia, la custodia di una coscienza cristiana illuminata dai valori evangelici e urgente. Così il Papa questa mattina nell'udienza al Tribunale della Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Francesco raccomanda l'impegno di un catecumenato matrimoniale, itinerario indispensabile dei giovani e delle coppie, per far rivivere la loro coscienza cristiana, sostenuta dalla grazia dei due sacramenti, battesimo e matrimonio. Per vincere l'antisemitismo, il nemico contro cui lottare non è soltanto l'odio ma l'indifferenza, lo ha affermato Papa Bergoglio incontrando i partecipanti alla Conferenza internazionale sulla responsabilità degli stati, dell'istituzione e degli individui nella lotta all'antisemitismo. È stata presentata questa mattina in Sala Stampa Vaticana la nuova Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium sugli studi accademici ecclesiastici emanata da Papa Francesco, porta la data dell'8 dicembre 2017, 52esimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II. Il documento vuole rinnovare e rilanciare il contributo delle facoltà e degli istituti cattolici in una chiesa missionaria in uscita e in un mondo che cambia. Non c'è vera umiltà senza umiliazione, e questo è il cuore dell'omelia di Papa Francesco stamani alla Messa a Casa Santa Marta, una riflessione che parte dalla figura del re Davide. Davide era un grande ma aveva anche grossi peccati, l'adulterio e l'assassinio di Uria. Eppure, nota Francesco, la chiesa lo venera come santo per quella capacità non tanto facile di riconoscersi peccatore. Viene poi umiliato, deve fuggire di fronte al figlio a Salonne e lungo il cammino viene insultato da un uomo. Ma Davide lo lascia fare nonostante i suoi volessero difenderlo. Forse questo insulto commuoverà il cuore del Signore e mi benedirà. Alle volte che noi pensiamo che l'umiltà è andare tranquilli, andare forse a testa bassa guardando il pavimento, ma anche i maiali camminano a testa bassa. Questa non è umiltà. Questa è quell'umiltà finta, preta portè, che non salva né custodisce il cuore. È buono che noi pensiamo questo. Non c'è vera umiltà senza umiliazioni. E se tu non sei capace di tollerare, di portare sulle spalle un'umiliazione, tu non sei umile. Fai finta, ma non sei. La strada, infatti, è quella di portare le umiliazioni come ha fatto Gesù. È necessità impellente l'ascolto da parte dei pastori della Chiesa, delle istanze e delle attese di quei fedeli che hanno reso la propria coscienza mute e assente per lunghi anni e in seguito sono stati aiutati da Dio e dalla vita a ritrovare un po' di luce, rivolgendosi alla Chiesa per avere la pace della loro coscienza. Lo ha detto il Papa questa mattina nell'udienza a prelati uditori, ufficiali, avvocati e collaboratori del Tribunale della Rota Romana, in occasione della solenne inaugurazione dell'anno giudiziario. La coscienza è quella di ciascuno di voi e quella delle persone, dei casi di cui vi occupate, infatti la vostra attività si esprime anche come il Ministero della Pace delle Coscienze e richiede di essere esercitata in tutta coscienza. Francesco ha esortato coloro che sono chiamati a giudicare sulla nullità o validità del vincolo matrimoniale come esperti della coscienza dei fedeli cristiani a invocare incessantemente l'assistenza divina per svolgere con umiltà e misura il grave compito loro affidato dalla Chiesa. La coscienza assume un ruolo decisivo nelle scelte impegnative che i fidanzati devono affrontare per accogliere e costruire l'unione coniugale e quindi la famiglia secondo il disegno di Dio. È quanto mai necessaria una continua esperienza di fede, speranza e carità, perché i giovani tornino a decidere con coscienza sicura e serena che l'unione coniugale è aperta al dono dei figli e Letizia è grande per Dio, per la Chiesa e per l'umanità. Il cammino sinodale di riflessione sul matrimonio e la famiglia e la successiva esortazione apostolica a Moris Letizia hanno avuto un percorso e uno scopo obbligati, come salvare i giovani dal frastuono e rumore assordante dell'effimero che li porta a rinunciare ad assumere impegni stabili e positivi per il bene individuale e collettivo. Un condizionamento che mette a tacere la voce della loro libertà, di quell'intima cella, la coscienza appunto, che Dio solo illumina e apre alla vita se gli spermette di entrare. Quanto è preziosa e urgente l'azione pastorale di tutta la Chiesa per il recupero, la salvaguardia, la custodia di una coscienza cristiana illuminata dai valori evangelici. Sarà un'impresa lunga e non facile, ammonisce il pontefice che richiede a vescovi e presbiteri di operare indefessamente per illuminare, difendere e sostenere la coscienza cristiana della nostra gente. Francesco raccomanda ancora una volta l'impegno di un catecumenato matrimoniale inteso come itinerario indispensabile dei giovani e delle coppie destinato a far rivivere la loro coscienza cristiana sostenuta dalla grazia dei due sacramenti, battesimo e matrimonio. Il catecumenato è per sé unico in quanto radicato nel battesimo e al tempo stesso necessita del carattere permanente essendo permanente la grazia del sacramento matrimoniale. La cura delle coscienze non può essere impegno esclusivo dei pastori ma con responsabilità e modalità diverse è missione di tutti, ministri e fedeli battezzati sottolinea poi il Papa che, cita il beato Paolo VI, occorre evitare gli estremismi opposti sia da parte di chi si appella alla tradizione per giustificare la propria disobbedienza al Magistero e al Concilio Ecumenico sia da parte di quanti si sradicano dall'humus ecclesiale corrompendo la genuina dottrina della Chiesa. Cari giudici della rota romana l'astretta connessione tra l'ambito della coscienza e quello dei processi matrimonali dei cui quotidianamente vi occupate chiede di evitare che l'esercizio della giustizia venga ridotto a un mero esplettamento burocratico. Se i tribunali ecclesiastici cadessero in questa tentazione tradirebbero la coscienza cristiana. Ecco perché nella procedura del processus brevior ho stabilito non solo che sia reso più evidente il ruolo di vigilanza del Vescovo diocesano ma anche che egli stesso, giudice nativo nella Chiesa affidatagli giudiche in prima istanza i possibili casi di nullità matrimoniale. Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale con il discernimento delle coscienze e con l'opera dei nostri tribunali. La fede è luce che illumina non solo il presente ma anche il futuro. Matrimonio e famiglia sono il futuro della Chiesa e della società. È necessario pertanto favorire uno stato di catecumenato permanente affinché la coscienza dei battezzati sia aperta alla luce dello spirito. L'intenzione sacramentale non è mai frutto di un automatismo ma sempre di una coscienza illuminata dalla fede come il risultato di una combinazione tra umano e divino. Il nemico contro cui lottare non è soltanto l'odio in tutte le sue forme ma ancor più alla radice l'indifferenza perché paralizza e impedisce di fare quel che è giusto anche quando si sa che è giusto. E questo è il monito del discorso del Papa rivolto nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico ai partecipanti alla Conferenza Internazionale sulla responsabilità degli stati, delle istituzioni e degli individui nella lotta all'antisemitismo e crimini connessi all'odio antisemitico che si tiene oggi a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non mi stanco di ripetere che l'indifferenza è un virus che contagia pericolosamente i nostri tempi tempi nei quali siamo sempre più connessi con gli altri ma sempre meno attenti agli altri. Eppure il contesto globalizzato ci dovrebbe aiutare secondo Papa Francesco a comprendere che nessuno di noi è un'isola e che nessuno avrà un futuro di pace senza un degno avvenire per tutti. Il Santo Padre ha fatto riferimento all'episodio di Caino e Abele che ci aiuta a capire che l'indifferenza è un male insidioso sempre accovacciato alla porta dell'uomo. L'indifferenza di Caino per la morte di Abele produce disperazione e silenzio. La memoria è la chiave di accesso al futuro ed è nostra responsabilità consegnarla degnamente alle giovani generazioni. Fare memoria non solo con la mente ma dal profondo dell'animo con tutto te stesso è la ricetta del Papa per abbattere l'indifferenza e superare tante deplorevoli forme di apatia verso il prossimo. La Chiesa desidera tendere la mano desidera ricordare e camminare insieme aiutiamoci a vicenda a far frammentare una cultura della responsabilità, della memoria e della prossimità e stabilire un'alleanza contro l'indifferenza contro ogni indifferenza. Saranno certamente di aiuto le potenzialità dell'informazione ma ancora più importante sarà la formazione. Dedichiamoci con passione all'educazione cioè a trarre fuori il meglio da ciascuno per il bene di tutti. È l'invito che Papa Francesco ha rivolto agli accademici a Bologna nell'ottobre scorso e che si è concretizzato nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium La Gioia della Verità presentata questa mattina in sala stampa vaticana dal prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica il Cardinale Versaldi. Il documento, 86 pagine emanato l'8 dicembre 2017 nel 52esimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II riguarda la nuova normativa degli istituti di studi ecclesiastici e va ad aggiornare la precedente Costituzione dal titolo Sapienza Cristiana. Il primo elemento che io sottolineerei è di grande continuità con il lavoro che è stato fatto negli ultimi decenni perché diciamo che la Veritatis Gaudium non nasce dal nulla non nasce all'improvviso ma recepisce tutto il lavoro che è stato compiuto le riforme già fatte il diritto canonico la filosofia eccetera eccetera però ecco quello che a mio avviso è è veramente nuovo è l'orizzonte l'orizzonte ecclesiologico e culturale che viene esplicitato in modo particolare nel Proemio dove emerge un po' tutto lo spirito che caratterizza il Magistero attuale nella linea del Magistero precedente ma che Papa Francesco ha rilanciato soprattutto con la Evangelii Gaudium. La revisione è stata incoraggiata dal Pontefice nell'incontro con la plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica nel febbraio 2014 con l'invito a riflettere sulle numerose istituzioni normative sparse nel mondo e sulla loro responsabilità di esprimere una presenza viva del Vangelo nel campo dell'educazione della scienza e della cultura sono quasi 800 gli istituti tra facoltà ecclesiastiche 289 istituti collegati 28 atenei e università per un totale di 64.500 studenti e 12.000 docenti Dunque è una Costituzione apostolica che regge i principi fondamentali degli istituti di formazione ecclesiastica a livello superiore quindi universitario La novità qual è? Che la precedente Costituzione di San Giovanni Paolo II è del 1979 la sapienza cristiana Ora, dopo quasi 40 anni si trattava di dare nuovo slancio al sistema degli studi ecclesiastici in sintonia con le prospettive di riforma proposte da Papa Francesco in questa nuova stagione dell'evangelizzazione come lui dice e quindi questo è il significato fondamentale del documento non tanto anche se sono ovviamente importanti le singole notazioni tecniche di cambiamento di perfezionamento ma direi soprattutto dare il via a un processo di grande riforma degli studi ecclesiastici per portarli a livello della stagione nuova che vive la Chiesa e per portarli a livello della stagione di grandi sfide culturali, sociali che il mondo di oggi è sottoposto la gioia della verità esprime il desiderio struggente che rende inquieto il cuore di ogni uomo fin quando non incontra non abita e non condivide con tutti la luce di Dio sono queste le parole iniziali della Veritatis Gaudium tra le novità introdotte dalla Costituzione Apostolica ci sono nuove norme sui corsi di studio e relativi titoli sulle figure dei docenti e di chi ricopre ruoli di responsabilità sugli aspetti istituzionali e soprattutto i compiti della istituzione Avepro l'Agenzia per la valutazione e la promozione della qualità creata nel 2007 da Papa Benedetto XVI che viene inserita nelle norme costituzionali obiettivo garantire all'esterno del sistema di studi la qualità dell'offerta formativa questa esigenza forte di adeguare le istituzioni per rispondere alle istanze di oggi allora da qui poi derivano tutte le cose più pratiche più tecniche in modo particolare si comincia proprio con la sottolineatura dell'importanza che ha l'Agenzia della valutazione della qualità che esiste già da dieci anni ma che adesso entra nella Costituzione quindi abbiamo sperimentato per dieci anni questo processo di valutazione anche esterna delle nostre istituzioni e all'inizio c'è stato un po' di resistenza ma poi si è capito che era molto importante perché entrare nel processo di autovalutarsi e di valutarsi in rapporto con le istituzioni esterne va nella linea della Chiesa in uscita di Papa Francesco allora anche le nostre istituzioni devono non soltanto garantire al proprio interno la qualità ma garantirle in relazione all'orizzonte istituzionale degli studi superiori del mondo di oggi questo è una delle cose ma poi c'è quella dei rifugiati poi c'è diciamo l'insegnamento a distanza le convenzioni internazionali ci saranno due anni di tempo per aggiornare gli statuti e i programmi di studio le facoltà e le altre istituzioni ecclesiastiche dovranno recepire le nuove disposizioni entro l'8 dicembre 2019 ma direi sono quattro nella visione di Papa Francesco prima di tutto dice occorre che i centri di formazione universitaria accademica della Chiesa Cattolica siano concentrati sul nucleo vivo del Vangelo e formino delle persone intere capaci non solo di pensare in novità ma anche di agire in novità nel servizio sociale secondo criterio per questo è necessario un'apertura dialogica a 360 gradi per costruire quella cultura dell'incontro di cui sempre parla Papa Francesco terzo è un principio di studio oggi importante a livello accademico non basta l'interdisciplinarietà cioè studiare lo stesso oggetto da diverse prospettive per giungere a coglierlo nella sua complessità ma occorre transdisciplinarietà cioè occorre porsi al di là delle differenze disciplinari per cogliere qual è il nucleo fondamentale del pensiero umano della sfida a cui il pensiero umano oggi è sottoposto e quarto infine dar vita a centri di eccellenza nella ricerca cioè oggi ci troviamo di fronte a sfide enormi biotecnologie necessità di gestione della crisi ambientale eccetera occorrono dei centri dove si studiano queste problematiche e si studiano con una presenza della tradizione cristiana quindi i centri cattolici sono chiamati a attrezzarsi in modo qualitativamente alto per far fronte a questa necessità in piazza a San Pietro volano i palloncini della pace a liberarli in cielo due ragazzi di azione cattolica romana che al termine della carovana della pace si sono affacciati insieme al Papa alla finestra dell'Angelus e con grande affetto saluto i ragazzi e le ragazze dell'azione cattolica della diocesi di Roma vi ringrazio per questa iniziativa grazie grazie tante non stancatevi di essere strumenti di pace e di gioia tra i vostri coetanei i ragazzi di azione cattolica hanno poi letto il loro messaggio promettendo al vescovo di Roma che cercheranno di mettercela tutta per promuovere iniziative di pace avete visto questi baloncini quando noi preghiamo male quando noi portiamo una vita che non è la vita che Gesù vuole le nostre preghiere non arrivano e per questo deve venire un aiuto per farle andare su quando voi sentite che le vostre preghiere non salgono cercate l'aiuto di qualcuno Francesco commentando l'episodio evangelico dell'esorcismo nella sinagoga di Cafarnao spiega che Gesù illumina le strade della nostra esistenza e ci aiuta a superare prove e tentazione Gesù è il nostro maestro potente in parole e opere Gesù si comunica tutta la luce che illumina le strade a volte buie della nostra esistenza ci comunica anche la forza necessaria per superare le difficoltà le prove le tentazioni pensiamo a quale grande grazia è per noi aver conosciuto questo Dio così potente e così buono un maestro e un amico che ci indica la strada e si prende cura di noi specialmente quando siamo nel bisogno infine il Papa invoca l'aiuto della Vergine Maria per ascoltare nel frassuono dei messaggi del mondo la parola più autorevole che ci sia quella del suo figlio Gesù che annuncia il senso della nostra esistenza e ci libera da ogni schiavitù anche da quella del maligno il pensiero del Papa è andato anche per le vittime della terribile strage terroristica compiuta a Kabul in Afghanistan con più di 100 morti e numerosi feriti pochi giorni fa un altro grave attentato sempre a Kabul aveva seminato terrore e morte in un grande albergo fino a quando il popolo afghano dovrà sopportare questa disumana violenza preghiamo in silenzio per tutte le vittime e per le loro famiglie e preghiamo per quanti in quel paese continuano a lavorare per costruire la pace edizione dell'osservatore romano di lunedì e martedì 29 e 30 gennaio contro il virus dell'indifferenza il Papa chiede di mantenere viva la memoria per combattere antisemitismo e discriminazione la cura della coscienza cristiana la rota romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario la madre non è un optional attacco dell'isis all'accademia militare di Kabul il pontefice condanna la disumana violenza che dilania l'Afghanistan la visita delimina dei vescovi della federazione russa dell'inferenzio dell'inferenzio dell'inferenzio